Scusate, è qua che si comprano i biglietti per i tarli. Sto aspettando anche perché ancora non c'è. Il 18 novembre ci sono i tarli. Che potevo l'altra volta. Sono rimasto qui, sono rimasto qui. Signori buonasera, scusate il ritardo. Dite, dite, dite. Io volevo comprare 9 biglietti per il 18 novembre, ore 21, lo spettacolo dei tarli. Io ho 4 biglietti. Per il 18 novembre, ore 21, i tarli. Sì, perché l'altra volta. Siamo rimasti fuori. Siamo rimasti in Italia. Ma questa volta non accadrà. Venerdì, 18 novembre, ore 21, a San Demetro, i tarli. I tarli. Siamo rimasti in Italia.